Si torna in campo per gara 2 dei quarti di finale play-off. Dopo la pesante sconfitta di sabato sera nella prima sfida della Virtus Segafredo Arena, l'Eppica Sabrindisi deve provare a fare il colpo prima di spostarsi nel Palapentassuglia per la terza partita. Se da una parte il coach Sergio Scariolo potrebbe variare qualcosa nel roster, magari tenendo a riposo i suoi atleti migliori, Frank Vitucci può solo variare il quintetto base, schierando i cinque visti nella seconda parte della regular season, ovvero Mascolo, Reid, Lamb, Barnell e Perkins. Una cosa è certa, i biancazzurri dovranno scendere determinati in campo e concentrati dal primo minuto, provando a contenere le bocche di fuoco delle Vunere, soprattutto i vari Hachet, Kordiniet, Teodosic e Belinelli, con particolare attenzione sotto canestro a Ojeite e Ojelei. Aggredire subito in difesa potrebbe essere l'arma in più per Brindisi, che deve tenere il ritmo di gioco alto, costringendo al fallo Bologna. Se mezzanotte e compagni vorranno provare a compiere l'impresa, sarà determinante anche il contributo di tutti, in particolar modo di Bauman e Lamb, entrambi con zero punti sullo scout a fine partita sabato sera. Naturalmente, la formazione di Sergio Scariolo parte favorita anche per la seconda sfida, ma nel basket la storia ci insegna che tutto può accadere, anche ribaltare il fattore campo. Nella Virtus, Sega Fredo Arena, a palla in due ore 20 e 30, arbitri Michele Rossi, Alessandro Martolini e Denis Quarta.